Rifiuti abbandonati in maniera illegale in un'area che di fatto era diventata una discarica abusiva. Ma in alcuni casi c'era chi non si faceva scrupoli a dare alle fiamme i rifiuti che invece andavano smaltiti in altro modo. In tutto questo è emersa anche la vendita irregolare di materiale ferroso ricavato dagli stessi rifiuti dati alle fiamme. Un giro di affari illegali che i poliziotti del commissariato di Gela hanno troncato eseguendo otto misure cautelari a danno di un gruppo di persone attive nel settore rifiuti. Per quattro di loro è stato disposto l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria e per altri quattro il sequestro preventivo di sette mezzi pesanti utilizzati secondo quanto ricostruito dai magistrati della procura di Gela senza autorizzazioni per il trasporto e lo sversamento dei rifiuti che andavano a finire in un fondo agricolo dove si era creata una discarica abusiva. Il GIP del tribunale di Gela ha anche sospeso le varie autorizzazioni, licenze e concessioni per il trasporto e la trattazione a qualunque titolo dei rifiuti nei confronti della società coinvolta. In totale sono 14 gli indagati comprese le persone a piede libero. Le accuse contestate a vario titolo sono quelle di combustione, sversamento illecito di rifiuti e violazione di sigilli alle quali si aggiunge quella di ricettazione per via della vendita del materiale ferroso ricavato dai cumuli di rifiuti date alle fiamme e che vede coinvolto anche un imprenditore di Niscemi.